marcia R1, L1, le frecce ma è questo? ma chi è? mi è svoloso il camion me l'ho detto vero io ma chi è? mi è svoloso il camion mi è svoloso il camion ho fatto una strage ho ribaltato tre persone ma? ma chi è? ma che cazzo? il camion di Yana è esattamente a fare da passaggio la livello con la cabina di Yana dove e mi ha detto scusatemi ragazzi io ve l'avevo detto che l'incontro mano ma non pensavo eravate così ma perché su? eravamo incurti ma come si è andato oltre mano? perché non arrivate più quello che ho detto vabbè faccio io, faccio prima